Azienda Agricola Perotti Mauro, Ristorante Pizzeria Rova di Mortara, Perotti Massimo Fabro, Calzatulici Vigio GR Tromello, MVG Ascensori di Prisco Francesco Tromello, Codegone Gianluigi Serramenti Tromello, Pizzeria Strapizziamoci Tromello, Britti Pesca Mortara, CM Impianti SRL Garlasco, La Taverna di Balco Tromello, Bar Popa di Ferro Sabrina, Alagna, Air Fashion Key di Milan Pierangela e Gennari Simona, 2G Intimo di Zoccoletto Paola, un grazie al Barsola, al Centro Carnitino e al Bar Osteria del Gallo Nero di Alagna, Pizzeria Il Boss, Sambuca, SNC, Giornali e Cartolibreria, Tabaccheria numero 1 di Cristian, Trattore e Antichi Saperi, Bari Incontro e Rossi Chiaio e Commercio Berando, un grazie particolare va anche al nostro Andrea Barbieri, titolare del negozio e della fattoria, che se avete bisogno di qualcosa, qualche articolo da pesca, qualche consiglio per andare a pescare, segnate pescare dall'altra parte, anche pure da lei. Un grazie, un grazie a tutti. Ok, va bene. Ok, allora adesso passiamo alla classifica. No, no. Allora, passiamo per la categoria più piccoli. Cominciamo. Allora, ci siamo? Bambi Filippo. E' un po' più indietro. Un applauso, un applauso, forza. Bambini, tu devi andare a petto indietro. Bambini, allora fa la cosa. Pesca il numero. Ernesto. Seglilo bene, eh. Dodici. Dodici. Una canna da pesca. E una ma... E una colpa fatta dalla SPS Grinello. Bravissime. Allora. Faccio... Cristal Chiara. Un applauso. Il numero c'era. Brava Chiara. 27. Canna da pesca. 27. La canna da pesca. Sono qua, Fabio. Una canna da pesca da tre metri. Bravo. E' un trofeo fatto con la SPS Grinello. Rivaldi Luca. Rivaldi Luca. Brava, Luca. Pesca il numero. La canna da pesca da tre metri. Brava, brava. Va bene. Per la prossima volta va bene. Numero trenta. Numero trenta. Ma ditele là, Fabio. Ditele se lo andate per me. Sanno tutti uguali i canna da pesca. Sì. Sì, per me dicevi. Una canna da pesca. E un trofeo fordo da SPS Grinello. Bravo. 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 Questo qua. Donati Gianluca. Bravo Gianluca. Bravo. No, è mia una coppessa alla portaria. Perché è questa la propria nole. Pesca il numero. Bravo. Numero diciotto. Vince. La canna lì, quella blu. Davanti, davanti. Una canna da pesca. E un trofeo fordo da SPS Grinello. Guarda là. Guarda, guarda. Guarda che ce la fote. Vai. Prego. Un applauso. Bravo. Prisco Valerio. Sono inferiore dagli otto anni. Lui ha preso, anche lui, la trotta grossa. Guardate, guardate, guardate. Io lo sto andando per una bambina. vuoi sapere lui. È un mondo tremendo. Numero 16. Sotto, sotto, sotto. Vai sotto, vai sotto. Non sono una canna da pesca. Canna da pesca. No, di qua la vuoi dire. Un trofeo fordo da SPS Grinello. Bravo, bravo. Bravo. Peccato il tempo. Sì. Bianti Cristian. Bravo, Cristian. Bravo, Cristian. Ernesto è brutto da vedere. Fabio, dormi? Fabio? Ti chiamavo la canna. Fabio? Fabio? Mi siete andati stamattina alle 5. Non so cosa avete fatto, però... Va bene, l'ho detto. Alcuno si è arrivato con comodo. Ho detto, vieni a mezzogiorno. Sono venuto un'ora prima. Cosa vuoi? Gopi, emili. Prendi il numero giusto, emili. Undici. Undici. Bravissima. La canna da pesca. E' un trofeo fordo da SPS Grinello. Un applauso. Lorendo e Sofia. Ernesto, tuo figlio resiste, eh? Senti, Sofia. Pesca il numero, Gioia. Numero quattro. Canna da pesca. Il trofeo offerto da SPS Trumello. Un applauso, bravissima. Forrari Giovanni. Un applauso, bravissima, 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 bravissima. Ferrari Giovanni. No, basta, basta. Ferrari Giovanni, dove sei? Ah, scusa. Vigo Paolo. Vigo Paolo. Numero ventiquattro. Numero ventiquattro. Torni la canna. No, non ce l'ho. E qua. Vince una bellissima cassettina. Bravo. Bravo, bravo, Vigo. Bravo. Vieni, ascolta, ascolta. In più vinci una coppa offerta da Britti Pesca. Bravo. Non c'è il numero. numero 33 un guadino e una coppa offerta da pizzeria Strapicciano Giditronello bravo bravissimo questo è fatto vai Raineri Andrea Raineri Andrea questo è il numero 35 30 minuti 35 è una coppa offerta da antichi sapori di Gidronello un applauso no 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 Sant'Agostino Andrea è in macchina è in macchina allora testiamo il numero testa il numero sei sfigato Francesco è il secondo di categoria il secondo più piccolo e vince una coppa offerta da azienda agricola Perotti Mauro quindi prima coppa piccoli è Ferrari Giovanni bravo 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 10 euro adesso richiama gli altri 2 euro e 50 non andava bene allora e mezz'ora che gli dicevo rispe Paolo rispe Paolo facciamo rischiare il numero Paolo 5 numero 5 la canna fissa è una coppa offerta da Sanbita di Tromello con te lo via bravissimo Palmeri Nicola i bambini sono all'acqua però questo è il numero 9 9 premio una cassettina da pesca guarda quanto pagnate nessuno 22 un guadino è una coppa offerta offerta scusa da centro Tornitino rimaldi Giosè 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 ecco bravo 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 Maraldo Alessio questo è il numero uno non sono in campo abbandonati Stefano spegni il microfono cassetta qualcuno c'è arrivato qualcuno l'ha capito stai sotto bagnate vieni qua cassetta e vinci ascolta eh una coppa offerta da Barsona Tromello bravo bravissimo Tettinuzzo Edoardo bravo bravo posso mettere un coppio 23 numero 23 vince una cassetta da pesca e una coppa offerta da Taverna di Bacco Tromello bravo 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 Sofia bravo Sofia numero 31 un bodino e una coppa offerta da a il Fosco di Milano e Gennari Tromello bravo Sofia un bel applauso ragazzi Faccina Matteo Numero 32 Una canna da pesca e una colpa offerta dal bar Popa di Alania Ora passiamo alla classifica Bianti Marica Bianti Marica vince una coppa offerta da C.A. del Calzatore Figgio Vai pure a pescare il numero 14 Numero 14 14 E una colpa offerta dal certifico G.R. Tromello Filotti Chiara Numero 20 Numero 20 Cagno da pesca e una colpa offerta dal bar Incontro Valeggio Brava Chiara Sparò Manuel 17 Numero 17 Numero 17 Un molinello e una coppa offerta da Rossi Claudio Pevante Carrasco Applauso Applauso Sparò Sparò Chiari 25 Un molinello Un molinello Scista E una coppa offerta da Pizzeria Il Boss Tromello E un cappellino Guarda vieni qua Guarda ti regaliamo anche il cappellino Ok perfetto Prisco Mattia Prisco Mattia Questo è il numero 26 26 26 E vince la coppa offerta da Bravo Matti Scuse Scuse La coppa è offerta da Parotti Mauro Francesco Azienda Agricola Perotti Perotti Martina Brava Martina Pesca il numero 2 Numero 2 Vince una coppa offerta da Perotti Massimo Fabro Tromello Brava Brava La letta è William Brava William Brava William Numero 7 Vince una canna fissa E una coppa offerta da Cm Impianti Gallasco Brava Quante categorie sono? 3 Sì penso di sì Come età Sì Bianchini Maria Terza classificata Vince una coppa offerta da Bar Scoglio No scusa eh Questa è la coppa scusa Vince una coppa offerta da Codonore Gianluigi Seramenti Trovello Numero 28 Numero 28 13 E il cappello E il cappello Primo classificato Primo classificato Di Catella Rua Grandi Zucchi No Aspetta Sai cos'è? Il trofeo offerto Andiamo No 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 Primo di categoria Primo di categoria Il trofeo offerto da Monica Spazio Di Garlasco Che è qui presente il Giorgio E che consegna lui Come consegna al bambino Ma la consegna allo zio Bene Allora Detto questo passiamo alla Allora Alla classifica La prima La troppa più grossa Troppa più grossa Per solo Riccardo Per una troppa di 2.160 grammi Trofeo offerto Da Barferro Perù Trumello Numero 29 Numero 29 Bravo Ricchi Bravo Fabio Allora Adesso passiamo Allora Prima ragazza classificata Grazie 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 Che la consegna Che la consegna La consegna La consegna al nostro sindaco A Cristal Chiara Vieni Cristal Eccola Guarda guarda Ma niente, però noi l'abbiamo preso. Il tetto Andrea, che è Andrea, che ce l'avevo fatto, che è questo, che è a questo punto che è arrivato qua a Ivano, se c'è ancora o se è andato via, non lo so, Ivano, vieni qua, vieni che lo consegni tu. Aspetta, mettiti qua. Vuoi postare il numero? Grazie.